Allora, oggi il nostro obiettivo è andare a Madonna del Monte, a Santuario, e andare su fino a Bornaz. Cercare il sentiero che mi ha detto una mia amica, ciao B, per proposito, dalle antenne fino alle Bornaz. È un brutto sentiero, lei l'ha fatto insieme al Moroso, se non sbaglio, ed è stata un'avventurina, non male. Questo cornuto, come corre! Il sentiero Fontanuzza è la località Bornaz, per cui... Domanda, destra o sinistra? Non c'è un becco di un segno, anche se qua vedo un arancione. Direi che è per di là, allora andiamo giù. Non c'è un bel mire, non c'è un bel mire, non c'è un bel mire. bello, carino e dovrò ammassare ulteriormente la sella perché vedo che peggiora wow, 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 bellissimo via da qua, via via vedo che altri hanno preso un altro sentiero difficile stare in equilibrio, sì sì, non hai troppo adesso ci fermiamo e abbassiamo ulteriormente la setta l'acqua non è farina da parossi wow sti cazzi sti cazzi torna andiamoci la pittraia anche qua ci sono pietre, sono nascoste dall'erba non vedo belle l'arma d'un acqua ecco qua 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 questo lo devo prendere l'altra via il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info è troppo alto, sono troppo inclinato il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 bravo Senti arne Alte come Fontanuzze e MTV, ma che è MTV di qua? Io seguo Fontanuzze perché non ho idea di dove porta questo, se affianca e si riunisce o se porta da tutt'altra parte Per cui seguiamo Fontanuzze Se mi fa sarà difficile, dipende Non avevo visto che c'erano le pietre in diagonale In caso una prossima volta prendiamo la strada Dio, va Dio Stai su, su Ok Ok E' di una bellezza pavolosa Ok Forse era meglio fare il tratto MTV perché mi sa che vanno dalla stessa parte e poi dall'altra C'è troppo poco spazio Allora Qui Voriz vanished Spu Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qua mi tocca caricarmi la bici in spalle. Sì, sopra il panorama è bello, ma sinceramente è un sentiero di merda. Da capre, da caprioli. Può darsi che il sentiero NTB seguisse sì questo canale, ma viene giù da qua, per cui ho fatto il sentiero del cacchio, per niente. Quasi quasi torno indietro. Stiamo risalendo il sentiero NTB, però qua siamo arrivati a un biglio e sinceramente non so, questa va su e questa va giù. E non so dove portano. Tornare indietro, anche perché sono quasi le 8, sono le 8 passate ed è già buio, per cui è meglio rincasare. Via, torno giù a questo punto, non posso proseguire oltre perché è tardi e il sentiero è pericoloso. Tornare indietro, anche pericoloso. Purtroppo non so fare il bagno di 8 a questo livello. Purtroppo non so fare il servo. problema tecnico devo fermarmi il manovrio mi si sta girando abbiamo sistemato momentaneamente il manovrio che lo stavo partendo non so questo manovrio si molano troppo facilmente non so perché noi facciamo quella quella per cui siamo venuti non c'è un problema con vedere la strada ok ecco veniva giù da qua per dire la roma è bloccata ovunque si fa ben sopra l'occhio qui questo lo graffi già con sedere ho infilato un ramo alla gamba la gamba, la gamba, la gamba madurazione sentiero di merda veramente sentiero del cazzo un altro ramo qua scende ma che roba meglio tornare su di qua devo mettere sulla giacca adesso devo partire entro pochi minuti comunque c'è un altro sentiero ho visto non è solo quello noi siamo siti là c'è un altro lì in parte però un'altra volta adesso torniamo a casa e da buia e da buia è stato un altro è un po' veloce ma guarda che lunga Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.